Buonasera, come mai state qui? Siamo qui perché oggi ci sono le primarie per la lista regionale della rete di cittadini. Ah, e lei come mai sta qui? Deve votare? Devo votare e sono anche candidata alla presidenza. Ah, veramente? Certo. Qual è il suo nome? Cornella Pistolesi. Bene, allora in bocca al lupo. Grazie, votatemi. Se mi guarda a me, io sono il suo bodyguard. Io sono pagato apposta per la salvaguardia dell'identità fisica del futuro candidato presidente. Beh, insomma, come bodyguard poteva venire un po' meglio, però vabbè. Si fa quel che si può. Io me nascondo di altro. Alle regionali del Lazio del 2010 una sola lista si presentò in alternativa al centro-destra e al centro-sinistra e ai partiti della casta. Quella di rete dei cittadini. E nel 2013 rete dei cittadini si ripresenterà ancora per proporre un progetto politico orizzontale che parta dai cittadini e non dalla vecchia politica.